Vivono un momento difficile i dirigenti scolastici degli istituti nisseni che lavorano ininterrottamente anche il sabato e la domenica per comunicare i dati all'usca scuola. Nel mondo della scuola le regole sono tante e diverse, calibrate per il differente grado di istruzione, c'è poi la condizione di classi in sorveglianza e i numeri variano di giorno in giorno rendendo difficoltosa la definizione di un quadro di insieme. E tra le centinaia di studenti positivi per istituto, le classi che oscillano da un minimo di 3 in DAD a un massimo di 14, le regole di fatto prevedono trattamenti diversi per la scuola dell'infanzia e servizi educativi dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I dirigenti lavorano 24 ore su 24 e da quanto ci raccontano hanno la piena collaborazione dei genitori nella comunicazione tempestiva dei casi. Un impegno continuo vissuto con tutte le difficoltà del momento, sempre più assorbiti dal monitoraggio di problemi sanitari e parasanitari. Una lotta contro il tempo per cui è pensiero abbastanza comune tra i dirigenti scolastici che abbiamo intervistato che sia necessario un rafforzamento dello SPEMP e dell'usca scuola. Intanto venerdì ci sarà l'incontro in prefettura tra ASP, dirigenti scolastici, per fare il punto della situazione attuale.